La situazione che è stata trovata dal personale di Vigilfuoco sul posto era abbastanza tragica, nel senso che vi erano delle persone sbalzate fuori e questa vettura che era in qualche modo andata giù per alcuni metri lungo la curva. In più il personale si è subito reso conto che le vittime erano, sia quelle decedute che quelle ferite, erano minorenne. Questo ha dato già un impatto emotivo. Dopo ovviamente si è subito pensato, anzi nell'immediato, a gestire l'intervento. Uno dei primi problemi era quello del fatto che la strada era piccola e i mezzi che stavano arrivando, quindi sia di Vigilfuoco che le ambulanze, avrebbero sicuramente intassato il posto. Quindi si è deciso subito di creare un posto comando avanzato di Vigilfuoco un po' più a valle, che coordinava la salita e la discesa dei mezzi dei soccorsi, di tutti i soccorsi, attraverso una comunicazione radio da questo posto di comando avanzato col personale. Perché un'altra difficoltà è che lì le comunicazioni telefoniche erano difficili. Quindi si comunicava via radio e Vigilfuoco col posto di comando avanzato, che in qualche modo mandava i mezzi e eventualmente dava le informazioni alle sale operative. Coinvolge emotivamente per due elementi fondamentali. Uno, il fatto che le vittime erano di giovane età, è anche abbastanza numeroso l'impatto. Due, che i familiari delle vittime che erano la vicini sono arrivati subito sullo scenario, quindi è stato un altro elemento di stress di gestione per il personale che ha dovuto intervenire e mantenere quindi quella professionalità e quella freddezza che serve per continuare a fare i soccorsi. Allora, sulle cause non ci siamo fatti un'idea, ci siamo fatti un'idea sulla dinamica. Probabilmente il mezzo nella curva, per un motivo che sarà da accertarsi, ha in qualche modo perso aderenze e quindi è andato al di là. Quindi ha iniziato poi a fare quella che è la discesa, quindi il rotolamento e durante questo rotolamento gli occupanti sono stati sbalzati fuori, quindi quasi tutti gli occupanti ovviamente durante le varie fasi.